Fon, Palmari e quant'altro, tutti che esaltano poi le loro capacità di connettersi alla rete a qualunque ora del giorno e della notte. Sicuramente la tecnologia da questo punto di vista ha fatto dei passi da gigante però se ci fate caso queste scene in queste scene vengono rappresentati sempre ragazzi molto giovani sempre molto belli sorridenti che stanno lì insieme in un pub in un ristorante a casa però con i cellulari in mano ma è veramente così e soprattutto dove finisce il mondo reale e dove inizia quello virtuale ce lo vogliamo chiedere oggi con i nostri ospiti studio allora io do il benvenuto al dottor Andrea Sant'Arcangelo, benvenuto. Grazie Manuel, grazie a te per avermi invitato. Dottor Michele Coccia, buonasera e Luis Capasso, ballerino, coreografo, maestro di danza e youtuber. Buon pomeriggio Manuel, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto Luis. Facciamo un po' di ordine, la tecnologia sicuramente ci aiuta molto, siamo tutti connessi a qualunque ora del giorno e della notte ma siamo connessi veramente oppure no dottore? Allora intanto è un tema molto complesso in realtà, veramente estremamente complesso perché se da una parte ovviamente i benefici della tecnologia che la tecnologia ci offre sono tanti, dall'altra può generare tutta una serie di problemi, di disfunzioni, di dipendenze, no? Ieri avete parlato di dating, no? Anche quello può essere uno strumento utile ma poi può diventare una dipendenza. Diciamo che più o meno dal 2008, quando è iniziato? Esatto, 2008, 2008 i primi, ecco con i primi smartphone, Steve Jobs, no? La famosa frase, vorrei che fosse una prosecuzione di noi stessi, in realtà poi è stato così e poi sicuramente i social Facebook, di Instagram intorno credo 2010-2011 che ha oggettivamente si è piano piano stratificato sempre di più il concetto di digitale. Sì, quindi diciamo che dal 2008 con i primi smartphone, le prime videochiamate, ci ricordiamo tutti la pubblicità videochiamami, da lì è iniziato un po' questo fenomeno. Dottor Coccia, su quali aspetti il mondo digitale però ha inciso di più sulle persone? Possiamo dire che gli aspetti primari sui quali ha inciso sono quelli che strutturano e nei quali la vita umana è imbrigata tendenzialmente quindi la sfera affettiva e quindi il mondo relazionale sia per quanto riguarda la componente amorosa che per quanto riguarda la componente amicale e anche poi l'altro aspetto cardine su cui poggia poi la vita umana che è l'ambito lavorativo, l'ambiente lavorativo. Allora parliamo proprio di ambiente lavorativo perché durante la pandemia, questo periodo terribile che abbiamo vissuto, siamo passati tutti, chi più o chi meno, a lavorare in modalità smart working. Era una parola che ogni tanto sentivamo però non è che capivamo proprio bene. Io mi ricordo qualche anno fa c'era qualche collega che chiedeva di poter lavorare in smart working però veniva sempre visto come un modo di stare a casa, non fare niente. Poi invece è arrivata questa pandemia che ci ha rivoluzionato le nostre vite perché ce le ha rivoluzionate e ci ha obbligato allo smart working. Che cosa è successo dottore? Ha accelerato un processo, un processo che sarebbe stato inevitabile e attraverso il covid questo processo appunto si è velocizzato. La parola smart working era associata a non al lavoro in realtà. Oggi invece, ma io ricordo un mio fratello che lavora al ministero dove all'inizio le persone che dovevano lavorare in smart working avevano proprio delle difficoltà perché si sentivano imprigionate e non avevano più anche quell'aspetto sociale, l'interazione sociale. Questo è l'inizio della pandemia proprio? Esatto. Successivamente invece che cosa succede? Che lo richiedono, che adesso le persone lo richiedono. Hanno compreso che in realtà non è il luogo ma il valore che si dà al lavoro. Poi attenzione perché poi lì c'è pure un altro discorso delle aziende che io ad esempio ho l'esperienza di un mio caro amico che è stato invece tra virgolette obbligato allo smart working ma quello è tutto un altro capitolo perché chiaramente poi c'è anche l'azienda che può dire ma sai che c'è se questo sta a casa io risparmio di energia e quant'altro. Luis Capasso, tu sei un ballerino, sei un maestro di danza, sei uno youtuber ed ecco perché sei qui. Tu venendo dal mondo della danza, la danza è contatto fisico, la danza è vedersi sia che balliamo da soli sia che balliamo in coppia si sta in presenza, ci si vede. Durante la pandemia che cosa è successo? Perché non si poteva più andare nelle scuole di ballo e allora? E allora sicuramente il mio settore è stato molto penalizzato da questo punto di vista. La mia occupazione principale è sempre stata quella dell'insegnante di ballo più che del ballerino in sé. e mi sono dovuto ingegnare subito. Quando c'è stato il primo lockdown io mi trovavo a casa di miei a Napoli e non avevo neanche lo spazio affinché io potessi fare delle lezioni online. Però ho smontato un po' la cameretta di quando ero ragazzino e con lo smartphone avevo la possibilità di connettermi con tutti gli allievi, le persone che comunque mi seguivano in presenza. ed è stato un modo per sentirsi sicuramente più vicini ma anche per continuare a tenersi in forma e a non disperarsi per tutta la situazione che ci stava coinvolgendo. Ecco perché poi io lo voglio sottolineare, la danza in particolar modo può essere anche una forma di terapia? Vediamo se mi correggono. Assolutamente sì, come la musica innesca tutta una risposta di tipo ormonale, quindi aumento della serotonina, il famoso ormone del buon umore, aumento dell'endorfina, adrenalina eccetera eccetera, quindi sicuramente ha un effetto terapeutico. Tanto è vero che io so Luis che da te ci sono tanti allievi, tanti allieve, tante donne anche che si iscrivono ai tuoi corsi di ballo anche magari dopo un'esperienza brutta, dopo un trauma, dopo una depressione, vero? Sì, io nello specifico lavoro nel settore della danza sportiva, quindi ballo sociale. La mia clientela media è comunque adulta, va dai 40 ai 60 e sono persone che comunque la maggior parte arriva perché ha la passione per il ballo, ma come dicevi tu, molte arrivano anche per evadere da un problema familiare, per superare un momento traumatico, traumatico nella tua vita come la perdita di un coniuge, un figlio, perché no? E devo dire che ho la prova viva, diciamo, che il ballo ha aiutato tantissimo queste persone. Chiaramente durante la pandemia tutto questo non era possibile, allora tu hai provveduto in modalità smart working, pure tu. Esatto. Poi andiamo a capire perché, però restiamo sempre su questo tema perché c'è anche la questione del tempo. Com'è cambiata la percezione del tempo durante la pandemia, l'uso anche dei vari strumenti, delle varie app, dei vari social? Perché a un certo punto io mi ricordo che i primi giorni, chiamate, videochiamate, i colleghi, i compleanni, certo, non ne potevo più. Certo, era l'ecceso. Esatto, non ne potevo più. Allora, diciamo che intanto è stato un periodo storico per cui ha portato anche degli effetti positivi, no? Non solo gli effetti negativi che tutti conosciamo, lavorativi e da un punto di vista psicologico. Tra gli effetti positivi c'è che le persone hanno iniziato ad avere una consapevolezza maggiore di se stessi. Per questo anche, prima tu hai parlato di lo smart working, le persone hanno iniziato a comprendere anche, avere una percezione del tempo diversa. Quindi in realtà io potrei impiegare il tempo in maniera diversa, potrei stare maggiormente con i miei figli, magari accompagnarlo da qualche parte, potrei fare qualche altra cosa. Le persone hanno iniziato a fare attività fisica, hanno iniziato a ballare, hanno iniziato a leggere, hanno iniziato ad appassionarsi ad attività che precedentemente non avevano mai fatto. Perché? Perché la loro attenzione era esclusivamente focalizzata o comunque prevalentemente in quel caso sull'aspetto lavorativo che portava la maggior parte del tempo. Certo. Dottor Coccia, tutto però questo uso di strumenti vari, tecnologie, app e quant'altro ci ha reso più liberi o più schiavi? Diciamo che è un buon 50 e 50. Possiamo sicuramente fare degli esempi. A chi non è mai capitato, ad esempio, di fare un controllino sull'accesso WhatsApp del nostro amato, della nostra amata? Questo è un dato incontrovertibile che effettivamente si è un pochino enfatizzato e si è un pochino, come dire, sbottonato ancora di più in questo palinzesto pandemico. Questo da un lato. Dall'altro lato, sempre mantenendo un'ottica legata al renderci un pochino schiavi o comunque un po' chiusi dalla componente tecnologica, posso rispondere con un esempio di vita privata. Una cara amica si è trovata in un momento di malattia e vi era un blocco informatico per quanto riguarda la certificazione medica del medico di base. E a quel punto si è bloccato tutto. Al lavoro non sapevano più come ottenere il numero di protocollo di quella pratica per poter poi far sì che nel suo stipendio a fine mese fosse riconosciuta la malattia. Per cui, questo è un esempio per dire, quando i vincoli informatici ci strutturano e quasi ci fanno un pochino perdere l'uso normale di quello che sono le nostre quotidianità. Non voglio arrivare all'uso della scrittura o del far di conto, ma non vorrei, come dire, che questo fosse un orizzonte di aspettative nefasto che ci attende. Certo, magari manca sempre quel pizzico di umanità, no? Assolutamente. Mi ricordo quando andavo a scuola, ad un certo punto, da buono, ottimo, distinto e quant'altro, eravamo passati ai numeri e c'erano queste professoresse che mettevano i voti con i numeri, poi i vari decimali, le virgole e quant'altro. A un certo punto c'era un voto, non mi ricordo quale materia, non mi tornava. Dice, no, vabbè, ma questo è il sistema, il computer. Dico, vabbè, ma a me il voto chi me lo deve mettere? Un computer o un docente? Dice, detto questo, lui, o no, giusto? No, 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 no. Perché no, perché comunque non si può fare. Anche perché se noi parliamo di digitale, se andiamo a guardare l'etimologia del termine, fa riferimento a un concetto numerico. Sì. Che è un concetto tendenzialmente matematico da zero a nome e quindi è un fatto legato a un numero e anche qui potremmo aprire scenari di discussione abbastanza ampi. E mi ricollego invece a proposito del tempo, io tutti i sabato mattina ho la notifica di quanti ore ho trascorso durante la settimana sul mio smartphone. Anche qua, poi dico, vabbè, ma era per lavoro. Esatto. È la scusa, no? Che si crea una dissonanza cognitiva e noi cerchiamo di ridurla. Perché questi sono i gruppi che mi fanno avere al lavoro, che mi obbligano, sono loro che mi obbligano, il gruppo redazione. Esattamente questo. Luis, come hai fatto tu a ritrovare virtualmente l'affetto, il calore, anche il contatto fisico, se vogliamo, che troviamo in una scuola di danza mentre si balla? Se l'hai ritrovato, se c'è stato, ma penso di sì. Sì, certamente l'ho ritrovato e è stato come se fosse la prima volta, ovviamente. Perché credo a tutti però è mancato il contatto da quel punto di vista, no? Comunque i social, è vero che ci hanno trovato di compagnia, però sono pur sempre limitanti. Non è la stessa cosa guardare la persona dal vivo. Così come quando ci siamo rivisti, poi per la prima volta che... Eravamo tutti ingrassati, invecchiati. In parte quello. Però non sapevamo bene la mano, il gomito. Se toccarci o non toccarci. Se toccarci o non toccarci. Anche perché poi noi italiani siamo abituati e quando ci incontriamo... Siamo molto tattili da questo punto di vista. Siamo molto fisici, no? Ci diamo sempre i due classici baci, ci si abbraccia, ci si accarezza. Spesso anche mentre si parla, no? L'abitudine, che ne so, di toccare la sciarpa dell'altro, un po' per prendere tempo. Quindi tutta una serie. Non so se l'abbiamo persa questa gestualità, questa... Al sud Italia no. Al sud Italia no, dottore. Un po' ci siamo allontanati. Per perdere anche alcune abitudini è fondamentale, sempre che ci sia una durata significativa. Sicuramente due anni è un tempo significativo e anche oltre, però diciamo che comunque restano ancora... La gestualità resta in realtà ancora, è ben corte in noi. Possiamo dire che non andiamo... Oggi che succede? Quando abbiamo bisogno di qualcosa, dal meccanico, dallo psicologo... Sì. Andiamo su internet, c'è poco da fare, no? Cioè mi servirebbe un... Vai su internet, mia madre mi piace, vai su Facebook. Non ha capito che Facebook è un... Però, vabbè. Dettagli, dettagli. Esatto. Possiamo dire... Ciao mamma. Possiamo dire che noi non andiamo su internet, ma invece viviamo costantemente connessi? Allora, diciamo che il termine giusto in realtà che si dovrebbe utilizzare, che è stato utilizzato il neologismo, è all life. Cioè nel senso, bisognerebbe trovare il giusto equilibrio tra l'essere online ed essere offline. Perché ripeto, i vantaggi ci sono. Se parliamo del nostro lavoro, prima magari si andava dallo psicologo se la persona poi decideva di parlarne, perché diciamo è sempre stato utilizzato in un certo modo, e quindi tu ti affidavi a quella persona di riferimento. In realtà oggi tu puoi invece vedere contenuti, vedere quel tipo di professionista, leggere tutte le recensioni che lo riguardano. Diciamo che in realtà la scelta diventa più accurata, se ci pensiamo rispetto al passato che magari si basava su un passaparola di due, tre, quattro, cinque persone di riferimento. Cioè più scelta. Beh sì, ci siamo, ci sono più informazioni, ma come ogni cosa è sempre l'utilizzo che ne facciamo, perché in realtà il problema è che noi creiamo un confine, ma questo confine non c'è più. Negli anni 90, quando i primi giochi digitali, era un momento, uno spazio di tempo che io dedicavo a... Finiva quello. Ok, che entravo in un altro mondo. Sì. Oggi non è più così, anzi se io creo questo distacco, rischio poi che non c'è la mia estensione sul virtuale, ma c'è un'altra persona, quindi possiamo riaffacciarci quasi a un concetto per il randelliano, no? Uno nessuno centomila. Le maschere. Le maschere che già prima utilizziamo, la personalità, la parola personalità indica proprio le maschere che noi utilizziamo in virtù di un contesto. semplicemente adesso è steso, è steso a molte più persone. Certo, perché poi un social dovrebbe permetterci di farci conoscere ancora meglio, di... Certo, poi nel momento in cui non sono integrato e quindi io utilizzo tante maschere, sui social trovo terreno fertile, perché l'incorporeità, l'anonimato mi facilita, quindi utilizzare identità nuove, no? Ma parliamo sempre della persona che la mette in atto, che non è integrata. E invece, esiste veramente questo confine, dottore, fra mondo reale e il mondo virtuale oppure no? Nel momento in cui noi poniamo dei confini, dobbiamo stare molto attenti perché dietro a quel confine ci può essere un tabù. Tendenzialmente io risponderei in questo modo, ricordando Chuck Jones, che è un noto disegnatore di Fumetti e che è il papà di Willy il Coyote, il quale sosteneva che per disegnare e definire bene un coyote ce lo devi avere dentro, perché animare vuol dire dare la vita a qualcosa di immateriale tendenzialmente. È come un afflato che viene dal profondo, per cui noi dobbiamo avere al nostro interno i nostri confini, poiché tutte le strumentazioni che possiamo noi avere, e calcoliamo che siamo passati dagli anni Ottanta ad un gioco, come poteva essere, indovina chi è, a faccialibro. Come no? Quindi faccialibro a Facebook. Certo. Per cui oggi viviamo per immagini, oggi costruiamo delle realtà che possono essere, come diceva il collega, false, perché sono frutto di una serie, una sommatoria, un po' come in questo studio, di esagoni, che si uniscono gli uni agli altri, sono una sorta di immagini che definiscono una realtà, ma non è detto che questa realtà sia continuativa. Per cui la continuazione di una realtà e il mantenimento di una data realtà la dobbiamo definire noi dal di dentro sulla base di quello che noi, come un po' anche dicevamo sul dating, vogliamo da quello che appunto è il nostro pensiero, il nostro intendimento, i nostri significati che costruiamo, perché la realtà è una costruzione. Noi costruiamo un mondo che non è il mondo perfetto, ma è il nostro mondo, è un po' anche la fisica quantistica, ci aiuto in questo, nel dire che l'osservato è condizionato da un osservatore, da un occhio che definisce, diciamo, quello che è sul campo di osservazione. E questo lo ritroviamo anche nella nostra pratica clinica. Bene, bene, bene. Però la tendenza è anche quella di ostentare una vita migliore di quella che abbiamo realmente. Assolutamente. Cioè c'è questa tendenza a voler ostentare una vita perfetta a tutti i costi, no? Assolutamente. Sui social. Assolutamente. Scegliendo la foto migliore tra 35 scatti. Assolutamente. Diciamo che è steso, si è steso questo concetto, perché prima magari il mio falso se lo mostravo alle persone che avevo vicino, oggi invece il mio falso se posso mostrarlo sui social, quindi a migliaia di persone, ma come diceva il collega giustamente è a monte il problema, cioè la consapevolezza e la conoscenza di se stessi. Se io non ho consapevolezza di chi sono, no? Parliamo con Socrate, da Socrate hai il mondo social, non conosco me stesso. Di conseguenza poi anche sui social tutto questo viene amplificato. Ma come l'ha anche la ricchezza, se ci pensate? Nel momento in cui io aumento la mia ricchezza potrei farne un uso diciamo sconsiderato perché semplicemente estendo quello che è la mia modalità nei processi di consumo. E se non conosco abbastanza me stesso mi convinco anche di essere quello che gli altri mi fanno credere di essere in base al riscontro che ho. Certo, certo. Soprattutto magari in fase... Degli effetti collaterali. Non ho un uomo di 40 anni, di 50 anni, però... Prima mi facevo influenzare da 2, 3, 4 persone, 10 persone, oggi mi posso far influenzare da migliaia. Da molti di più. E infatti poi c'è anche il discorso influencer, ma purtroppo devo andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità, anche se l'abbiamo già sforato due minuti, Luis come è stato tornare a ballare con una persona dal vivo la prima volta dopo la pandemia? Bellissimo. Bellissimo. Posso sintetizzare così? Bellissimo. Bene, bene. Allora io ringrazio i miei ospiti Andrea Sant'Arcangelo, Michele Coccia e Luis Capasso. Grazie a te. Noi continuiamo a seguirvi sulle pagine Instagram, il Sole, Centro di Psicologia Gira il Sole e Luis Capasso sui vari social, Instagram, Facebook, TikTok, ovunque. Non mi veniva perché tanto abbiamo detto, ecco, senza più confini tra reale e virtuale. Mi fermo, vado in pubblicità, dopodiché torniamo, preparate una tazzina di caffè perché oggi ce lo prendiamo con Tiziano Bellucci che ha scritto un libro, Il grande equivoco, l'anima in cerca del vero io, forse è meglio che restate. Andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.